E' una tempesta perfetta perché l'Ilva, Venezia, la situazione critica dei 5 Stelle. Credo che Di Maio si sia politicamente suicidato dopo il voto sul Russo, non credo abbiano molta speranza di proseguire. Il governo sarà ovviamente influenzato da una crisi di questo genere. Siamo a Firenze, alla festa del foglio, mentre a Roma il Movimento 5 Stelle è alle prese con la sua crisi. Proprio in quella che ha un titolo più che mai coraggioso, la festa dell'ottimismo, fra Ministri e Big della politica si scommette sul futuro di questo governo. Stiamo facendo un lavoro straordinario e credo che nessuna delle forze politiche che oggi sostenga il governo abbia intenzione di far naufragare questo progetto e ritornare al voto. Vorrei sottestamente dire al Ministro degli Esti che a G20 si va, non si resta con Sicilia, si va a G20. E' un fatto di attività nazionale, di orgoglio del Paese. Intanto da Roma Grillo blinda l'accordo di governo lanciando un nuovo contratto a gennaio. Di tutti gli equilibri Grillo, non Grillo, non me ne frega assolutamente niente. Quando qui continuano a giocare di rimbalzo e la situazione non si risolve, il Paese penso che si farà un'idea sbagliata di questo governo. Bisogna trovare una soluzione e prendere o terminare questo e andare alle elezioni o altrimenti non possiamo andare avanti così. Durerà quanto è giusto che duri ed è giusto che duri molto poco. A brindare alla crisi pentastellata potrebbero essere sia la coalizione di centrodestra che il PD. Alle regionali 5 Stelle correranno da sole, fanno un favore a Salvini che chi ne faranno? No, fanno un favore a se stessi perché mi pare che questa decisione deriva dal fatto che vogliono investire di nuovo sulla propria identità. Capisco che questo possa essere un problema per il governo ma come partito fanno bene a fare questo. Questo governo è nato per comporre una maggioranza perché dietro la porta ci sono i sovranisti. E c'è chi ostenta sicurezza anche per le regionali. Mi auguro che ci possano essere nelle due regioni dei risultati positivi. Dopo l'Umbria un duro colpo, anche in Emilia sarebbe uno spessore forte. In Emilia il PD vince. Ministro, ieri Berfegrillo ha detto che l'estate più vicino qualcuno l'ha letto però come un commissariamento, come risponde? Comunque il movimento fa le cose, in ogni caso le fa, ci troviamo sempre con qualche critica. Io non mi pento mai quando i cittadini possono esprimersi. E lo dico con molta franchezza, è stata una prova di forza dei nostri iscritti. Una prova di forza che Luigi Di Maio ha perso, quella sulla pausa elettorale del Movimento 5 Stelle, bocciata su Rousseau. Un vero e proprio terremoto, ma il leader pentastellato, riconosciuto ma commissariato da Grillo, prova a rilanciare e lo fa con numerose tappe nel cuore della Sicilia, dove nonostante la fuga dall'opposizione interna romana, il ricordo del 50% alle politiche si mescola con lo spettro della tenuta del governo. Facciamo un contratto di governo, sediamoci al tavolo e questo governo durerà tre anni. Quanto alle questioni interne al Movimento, se il Movimento è forte e compatto, il governo è forte e compatto. Col PD hanno fatto la cosa più sbagliata secondo me. Tutta la nazione è abbandonata. 5 Stelle e PD, ma io penso che hanno fatto la cosa più sbagliata di questo mondo. Mentre la base si oppone all'accordo di governo, Di Maio, dopo il voto su Rousseau, lascia una finestra aperta a possibili alleanze. Noi siamo aperti a tutte le forze civiche del territorio, questo è il nostro obiettivo. Faremo una campagna difficilissima, perché i risultati non saranno assolutamente scontati, ma anche questo è coraggio. E' presentarsi anche dove sai di avere delle difficoltà. Una delle difficoltà a cui si riferisce Di Maio è il calo di voti, ma il ministro degli esteri è convinto che sia ancora presto per tirare le somme. I conti si fanno alla fine. Io rivendico il diritto come movimento, come forza politica, di poter essere giudicato alla fine di questi cinque anni di governo. Negli stessi giorni in cui giustamente si aiutava Venezia, bisognava aiutare la Sicilia. Di Maio in Sicilia, invece di andare al G20, è nelle zone colpite dal maltempo. Intanto il Movimento 5 Stelle è in crisi, all'indomani del voto sulla piattaforma Rousseau e Beppe Grillo si precipita a Roma. Il Movimento è in piena confusione, pochi hanno voglia di parlare. Tentiamo con Di Battista che non risponde al telefono, Lezzi che si chiude dietro un non è proprio giornata, Gian Russo che riaggancia. Nel frattempo il capo politico dei 5 Stelle torna di corsa dalla Sicilia per incontrare Grillo. Siamo d'accordo su tutto, abbiamo smentito tutte le leggende metropolitane di questi giorni. Ed è Grillo a dettare la linea. È che siamo in un momento di caos. Il capo politico è lui, quindi non rompete i coglioni, fatemi la cortesia. Io rompo i coglioni, dice Roberta Lombardi. E Alberto Airola scrive, ok, non rompiamo le scatole, lavorerò in silenzio, vi va bene così? Una persona sola sulle spalle il movimento non se la può caricare, di conseguenza bisogna trovare il modo che questo modo di riprogettare il movimento sia il più efficace possibile. E mentre rinnova la fiducia a Di Maio, Grillo apre a sinistra. Avete scelto questa votazione in Emilia Romagna, ci andiamo, ci puoi dare un piccolo voto per beneficenza a noi? Che magari facciamo da tramite, tra una destra che arriva un po' pericolosetta e una sinistra che si deve formare anche lì. E quando parlo di progetti insieme, con la sinistra, parlo di progetti alti. Di Maio ripreso il tour in Sicilia si allinea. Non siamo più quelli che eravamo dieci anni fa, mettetevelo bene in testa, e soprattutto ci tende al caos, all'entropia. Dal caos vengono le idee meravigliose. Beppe in questo momento fa un po' di confusione, perché da una parte concordo con lui pienamente sull'apertura che fa a sinistra, poi però blocca a punto dicendo che questo deve farlo una persona sola, che è il capo politico e il referente, e questa persona sola forse è quello che ci crede meno di tutti. E questo secondo me può creare qualche problema, altro che caos. Parliamo di caos, da cui si potrà uscire con un sole meraviglioso e con un cielo azzurissimo. Un naif come concezione, questa che del caos si genera qualcosa di costruttivo. Sa, però il caos è sempre preludio del cosmos. E se Grillo vuol far politica, fondi un partito. Altro che giri immensi, il rinato amore tra PD e 5 Stelle ha fatto le capriole, fino a trovare il suo cupido, Beppe Grillo. Quando parlo di progetti insieme, con la sinistra, parlo di progetti alti. Una benedizione di fatto nel momento più difficile per i 5 Stelle. E va bene che il terzo incomodo, Luigi Di Maio, sta boicottando questo amore, lasciando Bonaccini e il PD al loro destino in Emilia Romagna. Di oltre 60 interventi, sostanzialmente uno ha parlato di una possibile questione di sostegno ad un candidato di un partito. Ma le frecce di Cupido non conoscono ostacoli. Io mi rivolgo al PD, abbiamo un'occasione unica, unica, Dio mio unica. L'elevato ha cercato il ritorno di fiamma quando ha capito che un governo giallorosso era possibile. O forse anche da prima, a una settimana da quel vuoto, da cui invece sarebbe nato il governo con la Lega. Potremmo mettere allora il 32 del Movimento 5 Stelle, più un 10, diciamo, del D.E., del PD, arriveremo a una maggioranza del 42. Un amore contrastato dunque, fatto in passato di parole grosse. Una banca da 35 miliardi portata al valore di 1,5. Vedi tutti i valori che hanno dissipato il Partito Democratico. Diliti pubbliche. Esci da questo blog, Beppe, esci da questo streaming. Edino Mignoli, non proprio affettuosi. No, l'ebettino di Firenze, guarda, è sentimentale. Ma è un amore che parte da lontano. Il primario dei cittadini gli viene consegnato. E che alla fine ha trovato la sintesi grazie a chi, 12 anni fa, ha acceso la scintilla. Mi auguro che questo governo in via di costruzione possa durare a lungo. E non voglio che voi rimaniate lì a essere sempre quelli, fighi, fighi, fighi. Fatta un culo a voi questa volta. Caratiamo, tamo, tamo, tamo. Il terzo premio è stato assegnato a Bottini Enrico. Viva! Giuro di essere fedele alla Repubblica. Di osservarne lealmente la Costituzione. Le leggi. Che mestiere fa? Ma io ho fatto il manager fino a ormai sei mesi fa. Scusatemi per il dress code. Noi siamo spesso i peggiori nemici di noi stessi. Chi è quello che ha fatto la comunione? Io non devo difendere l'italianità delle imprese. Io difendo le imprese italiane, che è cosa ben diversa. Io sono politico protempore. Hai scritto al PD? Sì, come no. La destra ce l'ha? Sì, ce l'ho. Ce l'ho anche firmata. Ce l'ho anche nel portafoglio. Guarda come si usava una volta. Lasciamo i deliri dei populisti alle vongole, anzi in questi casi direi alle cozze pelose. Caro Luigi, non siamo riusciti a fare questo passaggio di consegno. Mai mi è successo di invitare delle persone a cena ad essere trattato così male. Luigi, questo è un lavoro serio. Sono le più grandi pippe dell'universo a governare città e ministeri. Non farò scissioni. La sinistra è malata di scissioni. Caro Nicola, caro Paolo, vi prego di voler accettare le mie dimissioni dalla direzione nazionale del Partito Democratico. Considero essermi iscritto al PD. Un atto di coraggio. Ho capito che era una gran cacchiazza. L'ho capito ex post. L'esperienza come ministro mi è piaciuta tantissimo. Più di lavorare in azienda. L'azione nasce per questo. Il nostro caro sindaco nega la cittadinanza a una persona così onorevole. Non ci posso credere. Sono essere fatta. Tenendo conto che ora non c'è più la sinistra, vogliarsi che la pensano in un altro modo. L'ultimo schiaffo a Liliana Segre arriva da Sesto San Giovanni, l'ex Stalingrado d'Italia, alle porte di Milano, roccaforte storica della sinistra, passata per la prima volta dal dopoguerra al centrodestra nel 2017. Qui il Consiglio Comunale ha bocciato la proposta dei 5 Stelle di dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Vita, sopravvissuta all'Olocausto. Il sindaco ci ha accusato di strumentalizzazione. A mio parere è mai evidente che la strumentalizzazione l'ha fatta lui. Bastava votarla in Consiglio Comunale e si dava anche un segnale forte e positivo alla città. Con tutto il rispetto per la senatrice, ovviamente, il rapporto con l'identità non ci sono stati mai. La solidarietà si dà. Poi la cittadinanza ci vogliono altri elementi. Come si fa a dire che Liliana Segre non appartiene a Sesto? Medaglia d'oro alla resistenza, la storia di questa città è fortemente legata alla lotta al regime nazifascista, a partire dagli scioperi nelle fabbriche tra il 42 e il 44. Abbiamo avuto 573 deportati, di cui 233 sono quelli che non sono tornati. Sono tutti operai, lavoratori, che hanno scioperato o che comunque hanno fatto attività partigiana e che sono finiti tutti nei lager nazisti. Quelli che fa il comune e legge. Lei parla a uno che porta il nome di un deportato. Allora queste cose qui sono strane per una città. Io sono contro. Ma lei è una sopravvissuta all'olocausto. E va bene, è stata fortunata. Io non ho le sue idee, ma lui è il mio sindaco, quindi deve rispettare tutta la storia di Sesto. Chi non ha memoria non ha futuro. Non abbiamo idea, non lo so chi sono sti candidati. Mancano due mesi alle elezioni regionali, ma i calabresi non sanno per chi votare. Non ci sono né le candidature ufficiali, né i programmi politici. Andriamo a votare, però aspettiamo le novità dei partiti. Luigi Di Maio doveva arrivare in Calabria lunedì. Ha annullato tutto per il maltempo, ma forse non solo. Qui infatti, dopo un primo tentativo di dialogo con i DEM che poteva convergere sull'imprenditore del tonno, Pippo Callipo, adesso il Movimento 5 Stelle sembra spaccato in due anime. Rousseau ha dato una risposta importante. Il capo politico ha scelto di aprire le consultazioni con il simbolo del Movimento, sicuramente senza il PD. In netta rottura è la deputata Dalila Nesci, che dopo aver ricevuto da Di Maio un secco no alla sua autocandidatura, ora rilancia per un'apertura a sinistra. Un fatto civico, però guidato dal Movimento 5 Stelle da una figura autorevole, che coordini questo dialogo con il PD rinnovato e alle forze della sinistra. E se il Movimento è spaccato, altrettanto appaiono i suoi elettori. Votato dal Movimento 5 Stelle. Li rivoterebbe? Sì, sì. Preferirei solamente che governassi il Movimento 5 Stelle. Non mi fido assolutamente del PD. Se serve ad arginare questa destra populista, va bene tutto. Per me non esiste più il PD, quindi non c'è proprio nessuna convergenza da nessuna parte. Il PD si trova a un bivio o in seguire l'impervia strada di un accordo con un alleato recalcitrante o far leva sull'orgoglio. Apprezzerei molto da parte del mio segretario e del mio partito di chiudere al Movimento 5 Stelle. Noi dobbiamo finirla di andare con il cappello in mano a chiedere l'elemosina. Noi siamo il partito democratico. L'accordo con il Movimento, però, risolverebbe più di un guaio nel PD calabrese. Quello più grande si chiama Mario Oliverio, il presidente uscente sconfessato da Zingaretti, ma che ha intenzione di continuare la sua corsa in solitaria. Noi avremmo bisogno oggi di coesione. Non ho mai detto Oliverio la morte, ho sempre chiesto un confronto. Questa è Bologna! Senza un euro abbiamo portato in piazza 15.000 persone. Continuano ad arrivare sardine da ogni dove. Sono terrorizzato, guardi. Ma questa è una piazza bellissima. Se gratti sotto il sardino trovi il pidino. Occhio! Attenzione alle sardine in piazza grande. Mona! Mona! Mosinera! Le piazze siano organizzate da gente che fa dei post del genere. Posso dire un bel Salvini a testa in giù. E la pace è ormai! Quando si sentono attaccate da un pesce grosso, si riuniscono a palla. Ciascuno ha il diritto di protestare contro i razzisti, i fascisti, i nazisti, i marziani. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Di altro magari un pericolo per i partiti di sinistra. Quasi tutte le città d'Italia che scenderanno in piazza con una sardina in mano. Io li aspetto con gioia. Ogni settimana pubblicherò la mia agenda. Ci vita vecchia si rifiuta. Anzi, ci vita vecchia andrà potenzialmente in guerra contro Roma. Siamo pronti a fare la guerra. Civ vita vecchia si rifiuta di accogliere la monnezza di Roma, ma anche di acclamare Salvini. L'ordinanza di Virginia Raggi sul trasferimento di mille tonnellate di rifiuti romani in città scatena la polemica contro PD e 5 Stelle, in quello che fino a pochi mesi fa era un feudo pentastellato. Salvini deve avere un mare di voti e in questo mare di voti ci si debbono affogare tutti. Ha ragione. PD e 5 Stelle. Un vero e proprio assist per il leader della Lega, che infatti si precipita a soffiare sul fuoco anti-giallo-rosso sui problemi locali. Se manca un piano rifiuti è perché c'è un incapace a fare il sindaco, un incapace a fare il governatore. Perché è da settimane che si scrivono letterine. Sembrano due innamorati. Però di mezzo non c'è il pegno d'amore, ma c'è la monnezza. Come su quelli nazionali, con tanto di immancabile frecciata a Conte. Va dagli operai dell'ILVA a dire che non ha una soluzione. Va dai lavoratori all'Italia a dire che non c'è una soluzione. Non è in grado di governare un paese come l'Italia. Il 5 Stelle ha rovinato completamente Civitavecchia. Invece di andare avanti ci ha mandato indietro. Oggi se sono svegliati dopo sei mesi di sonno. Salvini non ha potere politico. Che cosa deve risolvere? Mentre Civitavecchia si divide sull'operato della nuova giunta leghista, il comizio di Salvini si trasferisce nella sala stampa del comune. I contestatori lo seguono e il capitano non va tanto per il sottile. Chi ha dato la vita per la libertà di questo paese, che secondo me si è rivolta nella tomba quando tre poveretti cantano quella strada. Contestazioni a parte, l'obiettivo di Salvini rimane chiaro e il leader leghista sembra pronto a tutto per ottenerlo. Se ci fosse bisogno di sedersi in mezzo a una strada, io non ho problemi. Mi cambio i pantaloni, mi metto i jeans e mi siedo in mezzo alla strada. Ius Culture e Ius Soli. Non ho problemi a dirlo e a rivendicarlo come una prospettiva politica da iniziare subito. C'è una legge rimasta incagliata nelle sabbie mobili del Parlamento e lì dimenticata. Si tratta dello Ius Soli, approvato dalla Camera nel 2015 con i voti di sinistra e partito democratico. Era una delle priorità del governo Renzi. È importante che questo governo sia percepito come il governo che fa le cose, compreso la battaglia di Sessil sul diritto alla cittadinanza per lo Ius Soli perché è nato qui. In questo momento storico c'è bisogno di regole, di certezze, di limiti. Voti contrari, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Astenuto il Movimento 5 Stelle, anche se l'anno prima aveva depositato una proposta di legge simile. Noi non facciamo altro che mettere sui barconi ancora più gente disperata, gente incinta che viene a partorire qua in Italia. Approdata in Senato l'opposizione da ricoprì gli emendamenti. Poi, a giocare a sfavore, è arrivato il no al referendum costituzionale, il passaggio di governo, scontri interni al PD e minacce di scissione. Con le nuove elezioni alle porte, in aula, il voto andò così. Non è il numero legale. Si rinvia alla prossima seduta. La verità semplice è che non siamo riusciti a mettere insieme numeri sufficienti per far approvare questa legge. Adesso Zingaretti ha posto di nuovo la questione tra le priorità del PD e del governo. Noi ci batteremo per farla approvare perché gli italiani sono molto più avanti del Parlamento. Lo just culture, lo just soli. Ma a quattro anni di distanza le posizioni sono rimaste le stesse. Anzi, i contrari potrebbero essere aumentati. Si è preso una marea di vaffa, ma anche dai suoi alleati di governo. Fuo che sia abbastanza ipocrita oggi proporre una cosa che non si è avuto la forza di fare quando c'erano i numeri. Per fino di maio... Io sono sconcertato. Qui siamo al governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale. Procedere ad indagini preliminari nei suoi confronti... Sono indagato. È un atto criminale tenere i migranti sulla nave in questo modo. 15 anni di galera, qui bisogna eventualmente aggiungere le aggravanti. Dalla 18 tutte le persone... Basta. Stop. Dovevano scendere sul territorio italiano. Oggi c'è la giunta alle elezioni che decide se lei deve essere processato. Il voto è andato. 16 voti a favore della mia proposta di negare l'autorizzazione a procedere. Io sono la persona più tranquilla del mondo. ONG avvisate, mezze salvate. Ha anche stato un'altra parte che ha detto che non ci sia aiutato a prendere le grette di Boczo. Ma hai racchetti o racchetti? Non ho tempo. Ho 42 persone per prendere. Questa capitana che ha detto che io sono bianca, ricca, benestante e tedesca. Non sapevo come occupare il mio tempo. Vado in Italia a romper i coglioni. Ho formulato richiesta motivata di archiviazione. Evidenziatore, è una buona notizia. Stamattina mi sono alzato bene perché vengo al congresso di un sindacato di polizia da indagato. Dico ai magistrati di Agrigento che lo rifarei domani mattina. Ho lanciato un appello all'orgoglio dei miei colleghi imprenditori e hanno risposto in moltissimi. Si formerà questa compagine. Ci hanno provato in tanti a salvarla. Berlusconi, per non rinunciare all'italianità della compagnia di bandiera, aveva proposto la privatizzazione. Prodi invece era pronto a vendere all'Italia, alla concorrente Air France. Air France ha presentato delle condizioni non soltanto irricevibili, ma addirittura offensive. Nelle urne del 2008 Berlusconi sconfigge Veltroni ed Air France abbandona la partita. I capitani coraggiosi messi insieme dal Cavaliere, però non la fanno ripartire. L'aver annunciato cordate di cui non si vede allo stato delle cose, la materiale esistenza sia stato un grave errore. I conti sono sempre più in rosso, nonostante altri 2400 esuberi. E nel 2013 lo Stato deve aumentare il capitale. Ci vuole un partner industriale e spunta fuori Etihad, che ne rileva il 49%. Vorrei chiedervi di allacciarvi le cinture, perché qui stiamo decollando davvero. Il decollo di Alitalia con gli emiri non c'è stato, ma le perdite miliardarie sì, tanto che nel 2017 l'azienda è sull'orlo del fallimento. E così con il governo giallo-verde torna l'ipotesi di partecipazione statale. È evidente che per questo governo quello deve restare un vettore dello Stato italiano. La società che dovrebbe rilevare la compagnia ha come partner principale ferrovie dello Stato, mentre si aprono trattative con Delta e EasyJet. Spero di essere l'ultimo ministro che si occupa della crisi Alitalia. Il salvataggio di Alitalia oggi però è più incerto che mai, dopo lo stop di Atlantea, l'uscita dei tedeschi di Lufthansa e i dubbi dell'americana Delta. Di sicuro invece sono i quasi 9 miliardi che lo Stato ha speso negli ultimi 40 anni per tenerla in vita. Ritengo che ci siano delle condizioni che mi fanno essere parzialmente ottimista. Per favore vieni al ristorante Il Veliero di fronte all'ufficio alle ore 10. Abbiamo un'importante comunicazione da fare su UL Italia. Il turno di mattina è annullato. Alle 8 del mattino dell'11 novembre ci siamo svegliati con questo messaggio. Questo, se metti il badge a contatto, si apriva in automatico quella porta lì. Era stato disattivato e la serratura era stata cambiata. Fuori dall'azienda, da un giorno all'altro, 40 persone che lavoravano direttamente tramite una cooperativa per UL Italia, una società che si occupa della televendita di pietre preziose, hanno ricevuto questo trattamento. Le chievi con cui ho chiuso la sera prima e la giornata non funzionavano più. No, ci hanno fatto andare a ristoranti. Abbiamo trovato cornetti e succhi di frutta. E ci hanno detto che non avevano più soldi e che quindi pensavano di continuare con 10 persone. Le loro cose, appunti, caricabatterie, tazze per il tè, sono rimaste dentro. Solo dopo settimane è stato concesso loro di rientrare a riprenderle. Un applauso all'Ontrico! Ci hanno chiuso fuori come se fossimo dei ladri. Ci fanno entrare due alla volta perché hanno paura che potessimo rubare qualcosa. Sono misure cautelative, quella delle disattivazioni del badge, che storicamente si prendono verso le persone che commettono degli illeciti all'interno dell'azienda. Ragazzi giovani, tutti under 40, da giorni in presidio fino all'imbrunire davanti all'azienda, che per loro era come una famiglia. Il mio compagno è entrato poco dopo di me. Il mio cognato ha conosciuto qui sua moglie, insomma ci sono state tante nascite, tanti matrimoni. La nostra relazione è nata da una festa aziendale. La mattina dopo, eccoli di nuovo qui. Si sono dati appuntamento con i sindacalisti al bar dove erano soliti prendere il caffè in pausa pranzo. Sarebbe stato sufficiente una trattativa col sindacato fin da subito, di modo che ovviamente tutto venisse regolamentato. I sindacati sono stati allertati solo in un secondo momento dai lavoratori. Un comportamento gravissimo da parte dell'azienda. Una modalità forse applicata nelle aziende del 600, quando venivano fatte le serrate da parte del datore di lavoro, ma questo non si vedeva da anni nel nostro paese. L'azienda preferisce non rilasciare dichiarazioni. Noi aspettiamo fino a sera. E mentre siamo insieme ai ragazzi, esce uno dei capi della società che controlla Iuelo. Proprio a lui! Ci spiega come è possibile che sia stato messo in atto questo modalità di... Non lasciate le camere! Uno! Scusate! Poi anche per quasi tutti i superstiti, ovvero i lavoratori che erano rimasti dal lavoro, stesso trattamento, serrature cambiate, lettere di licenziamento. Hanno già fatto una cosa simile in Inghilterra. Stesso identico modus operandi. A quanto pare ognuno può fare quello che vuole, cioè imbarba alle leggi, alle lotte che ci sono state nel tempo. Stanno realizzando abbigliamento da uomo, in serie. Quattro lavoratori completamente a nero, senza neanche la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Lavoro nero e illegalità. Questo è solo uno dei tanti opifici della provincia di Napoli che produce abbigliamento per negozi e grosse case di moda all'interno lavoratori pakistani e bengalesi. Un fenomeno diffuso e lo dimostra anche il blitz dei carabinieri di Napoli che, in una fabbrica di melito, estensione di un grosso marchio, hanno trovato più di 40 operai, tutti italiani, che per sfuggire ai controlli sono stati rinchiusi in un cavo per sei ore. Nel tessile abbigliamento le ultime rilevazioni indicavano ufficiali circa 20.000 addetti. Penso che almeno un'altra metà, un altro 50% sia almeno a nero, quindi almeno altri 10.000. Un valore proprio economico del sommerso in milioni di euro, quante si sa? Siamo ben oltre i 50 miliardi di euro l'anno. Ma c'è l'altra faccia della medaglia. I costi del lavoro per chi rispetta le regole non sono bassi. Quanto costa un lavoratore effettivamente ad un imprenditore? Credo all'incirca 6.600 euro al mese, comprensivo di tasse, sì. Un minimo del salario arriva a questo. E al governo una richiesta ben precisa. Per ridurre le tasse sia per gli operai che per noi datori di lavoro, perché è importante anche per loro avere qualcosa in più in bussavata. Secondo i dati dell'osservatorio Asso Lavoro e Data Lab Emerge, che in campagna si nasconde il 20% del totale dei lavoratori in nero, la cui entità su scala nazionale ammonta oltre 294.000 persone. Il governo non consentirà la chiusura dello stabilimento di Taranto Exilva. Costringere l'azienda a trattare come giusto che sia. Il paese industriale senza acciaio è morto. L'ultima crisi dell'acciaieria di Taranto comincia con un comunicato di poche righe. Non è possibile gestire lo stabilimento senza le protezioni legali necessarie per attuare il piano ambientale. Lo scudo penale per cui i dirigenti non sono imputabili per danni ambientali pregressi, eliminato da un emendamento a firma Barbara Lezzi, rischia ora di spaccare la maggioranza e riapre la frattura fra i cittadini di Taranto. Voi potete rimanere a lavorare per 25 anni, voi e i vostri figli, per bonificare questa schifezza. Lo volete capire? Il diritto al lavoro di 15.000 persone, contrapposto al diritto alla salute di un'intera città dove il tasso dei tumori infantili è il 30% superiore alla media nazionale. Noi viviamo in una condizione come se da quella fabbrica ci fosse un cecchino che ogni giorno spara su un cittadino, qualcuno lo ferisce e si ammala solo di tumore, qualcuno viene totalmente ammazzato. Quando Arcelor Mittal si siede al tavolo della trattativa, le condizioni sono durissime. Ci è rappresentato l'esubero di 5.000 persone. Per noi non è assolutamente accettabile. Tra scioperi, ipotesi di nazionalizzazione e richiami del Quirinale e Giuseppe Conte, l'unico politico, a visitare Taranto. Presidente, che soluzione ha portato? Non ce l'ho in tasca, io non sono un venditore di fumo. Per il governo però tenere acceso lo stabilimento è fondamentale. Senza un investitore non partirebbe nessuna bonifica. La fine si sono resti disponibili per venire alla elaborazione di un nuovo piano industriale che contempli nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche. Un'apertura che però non tranquillizza nella cittadinanza né tantomeno le 250 imprese dell'indotto che danno lavoro a 6.000 persone e che aspettano pagamenti per 50 milioni di euro. Di qua non ci muoviamo se non veniamo pagati. La bomba sociale, insomma, non è ancora disinnescata.